A meno di un giorno dalla semifinale playoff e promozione del Girone A, tra Salemi e Olimpica Agregas non sembrano esserci risvolti significativa in casa trapanese. Dopo il duro comunicato stampa congiunto a firma dei calciatori salemitani, che minacciano di non scendere in campo, non si registra con alcuna controrisposta societaria. Il tutto è circondato da un fitto mistero e il braccio di ferro è attualmente emediato dal DS Gianluca Pisciotta, che anzi richiama a raccolta i propri tifosi. In vista della sfida contro l'A, che può valere una stagione, si legge nel blog firma del presidente Giuseppe Piazza, dove sta la verità è tutto un blef. Tra l'altro nello stesso blog si afferma che la squadra dei titolari si sta allenando regolarmente. Ad agrigenti i tifosi sono poco convinti, come anche la stessa società biancazzurra. La rosa di calciatore a Cragantini infatti ha continuato a lavorare sodo in queste ultime settimane, in barba a tutte le chiacchiere. Purtroppo la posizione finale della regular season obbliga Castaldo e compagni a giocare fuori casa questo primo confronto e nel caso di superamento del turno, anche quello successivo verrebbe giocato a misilmeri. Ci vorrebbero un paio di imprese, ma nel calcio tutto è possibile. In casa biancazzurra è certo che al seguito della squadra ci sarà un nutrito numero di tifosi biancazzurri. Sul possibile schieramento che Giovanni Falsone manterrà in campo non dovrebbero esserci dubbi, per cui con il recupero dell'esperto guardia pali Gino Casella, l'undici dovrebbe essere il seguente. Casella, La Rocca, Ortugno, Castaldo, Musa, Puccio, Cimino, Maniscalco, Sant'Angelo, Settecase e Locurto. Infine sarà una terna arbitrale nissena a dirigere questa semifinale playoff tra Salemi ed Olimpica Acregas. Si tratta di Danilo Verde, il quale verrà assistito da Davide di Dio e Michele e Ceravella, tutti della sezione di Caltanissetta. Lo Verde ha già diretto all'esseneto la compagine dei templi nella gara di campionato di questa stagione contro il Don Bosco Partinico e terminata con la vittoria dell'Olimpica Acregas per 2 a 1.